Rosario Mariella dunque è presente al Memorial Flavio Bruni, parliamo prima di questa iniziativa, è stata una sorpresa un pochino per tutti questa tua presenza qui? No, devo essere presente anche l'anno scorso, però per problemi, ecco che avevo altri impegni, non sono potuto venire e quest'anno appena ho avuto la notizia che si rifaceva questo Memorial, non mi sono fatto sfuggire a questa occasione per tornare al campo basso e per essere presente a questa manifestazione. Ecco proprio quando giocavi tu insomma nella prima parte, la tua esperienza ci fu appunto tra virgolette la scomparsa di Flavio, ci fu quella visita in ospedale dunque siete rimasti molto legati soprattutto voi in quel momento della stagione e poi un ricordo che porterete sempre con voi? Io personalmente sì, lo portavo sempre dentro di me perché ricordo ancora i suoi occhi quando mi disse che voleva festeggiare con lui la vittoria del campionato e lui festeggiava la sua battaglia vinta, questo per lui non è successo però so che aveva tanta forza perché io quello sguardo ce l'ho ancora dentro, quindi per questo sono presente qua e credo che sia per i suoi amici che per me che l'ho conosciuto in quel momento è un ricordo bellissimo. Ecco dunque, camminando per un secondo argomento, ritorni al campo basso, insomma tanti amici diciamo se un anno fa giocavi qui è sempre immagino un piacere per te perché poi ritrovi sempre dei compagni sia di vita che di squadra. Assolutamente, ormai ho sempre detto che per me il campo basso è la mia seconda casa, quando sto ritornando già l'atmosfera, la sensazione di ritornare al campo basso per me è già area di famiglia, quindi è sempre un piacere poter ritornare qui, abbracciare amici di campo e non campo, quindi per me ogni volta che torno è sempre un'emozione speciale e anche vedendo comunque i risultati acquisiti negli anni che ho giocato al campo basso sono sempre emozioni uniche. Facendo un passo all'iniero dobbiamo dire che quella dell'anno scorso forse è stata una salvezza davvero storica perché ottenerla in quelle circostanze è stato davvero bellissimo, poi purtroppo sappiamo tutti com'è andata, qui si stanno tra virgolette riorganizzando, c'è stata questa vittoria del campionato, immagino saprai anche della Coppa Italia, insomma passo dopo passo si cerca di ricostruire. Assolutamente, io credo che quella che è successa l'anno scorso io lo chiamo il miracolo sportivo, il miracolo calcistico perché in quelle circostanze, almeno quando sono arrivato io a dicembre, a gennaio eravamo veramente quasi retrocessi, infatti poi quando ho visto la classifica nel momento della FIM ho detto sarà una situazione difficile, un obiettivo veramente miracoloso e salvarci con una giornata di anticipo, in quella situazione con quei problemi societari veramente posso dire che ho fatto parte di un gruppo veramente di veri uomini che hanno dato l'anima veramente per questa maglia, quindi era un gruppo veramente di tutti i fratelli nello sportivo e poi in campo si è visto quando si lottava. Un'ultima cosa, naturalmente è presto per parlare di futuro anche perché con questa nuova ridistribuzione dei campionati bisognerà un po' vedere cosa succede in Serie D con tante piazze, la C unica, insomma tu come la vedi sia diciamo dal punto di vista esterno ma anche per quel che riguarda la tua posizione? Io avendolo fatto anche quest'anno la C e non essersi salvato con la Versa ti posso assicurare che l'anno prossimo sarà un campionato di Lega Pro assolutamente differente, assolutamente competitivo, sarà una seconda Serie B secondo me perché comunque chi rimarrà in Lega Pro è veramente perché è di livello e chi pensa che il campionato di Serie D possa scendere di livello si sbaglia perché credo che l'anno prossimo sarà un campionato di Serie D assolutamente uno dei più difficili degli ultimi anni perché molti giocatori che non riusciranno a fare un contratto, a strappare un contratto di Lega Pro sicuramente si accontenterà tra virgolette della Serie D che a mio avviso diventerà un campionato veramente competitivo e ha a che fare con un'annata veramente difficile